Io deliberatamente non ho parlato diffusamente dell'Ucraina, ma se volete ne possiamo parlare. Signora Presidente, io rifiuto decisamente quello che lei diceva e qualsiasi analogia tra la rivoluzione del 1956 in Europa e quello che succede adesso in Ucraina è sbagliato ed è un'umiliazione del popolo ungherese. Non hanno nulla a che vedere i due eventi storici fra di loro. La lotta della libertà in Ungheria non può essere comparata a questo, rifiuto qualsiasi paragono di questo tipo, però parlo volentieri di qualcos'altro. C'è un detto inglese che è vecchio di cent'anni. Se vogliamo vincere bisogna innanzitutto che ci sia il coraggio necessario per dimostrare che stiamo per perdere. Stiamo effettivamente perdendo sul fronte l'Ucraino e voi vi comportate come se non fosse così. La realtà è questa e anche grazie alla Presidente della Commissione Europea. L'Unione Europea è in modo sconsiderato sulla base di dati sbagliati e con una strategia sbagliata si è intervenuta in questa guerra. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare questa strategia che è perdente perché la strategia è stata pensata e attuata in modo sbagliato. Se continuiamo su questa strada perderemo.